Ciao, ti do il benvenuto a come solito appuntamento con l'aggiornamento su Ethereum del venerdì e come sempre grazie al mio metodo ciclo con l'indicatore Voltime andremo a stabilire quali saranno le date per un possibile ribasso, le date per un possibile real in tutto lo andrai ovviamente a scoprire subito dopo la sigla del canale mi raccomando di non andare via, anzi nel frattempo ti invito a iscriverti al canale a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato con le mie analisi gratuite a tra poco, ciao ciao eccomi qua, sempre in maniera super veloce se è la prima volta che mi stai guardando ti do il benvenuto sul mio canale sono Paolo Pesino, sono un trader del 2007, da 8 anni la svolgo come unica attività e mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com ti invito a visitarlo, a registrarti al canale Telegram gratuito per avere accesso alle due analisi cicliche multidale gratuite analisi ciclica intraday su DAX, NASDAQ e anche altri strumenti almeno due volte alla settimana e anche a registrarti quindi a un canale che è molto ricco di... è un canale vivo, ci sono tanti commenti, ci sono tante analisi e tante discussioni macroeconomiche a volte qualche discussione di troppo che non dovrebbe esserci ma fa parte ovviamente del numero di persone ti invito anche a visitare il resto del sito concentrandoti molto sull'indicatore ciclico a volta anche se non hai mai visto le analisi vitale tra poco che permette di proiettare nel futuro il movimento dei prezzi quindi sapere con giorni, mesi, anche settimane e ore a seconda del tipo di trader che sei in anticipo che cosa farà il mercato sia quando poter vendere i massimi assoluti e comprare i minimi assoluti tutto ciò che invece ti insegnano non essere possibile da fare questo vuol dire che non si sbaglia mai, no? perché è una componente psicologica ovviamente importante e perché anche l'analisi ciclica seppur con una precisione mostruosa ovviamente è soggetta a errore se non esisterebbero i mercati tra l'altro con l'indicatore avrai accesso anche al canale Telegram canale Telegram dove faccio formazione di analisi ciclica dove metto anche le mie analisi e dove mettendo le tue analisi possiamo fare un bel confronto è l'unico canale, credo, esistente dove un unico strumento uguale per tutti non lascia spazio a fantasia nel senso che se posto una mia analisi la vediamo tutti quanti nella stessa maniera perché anche sul tuo computer avrai la stessa tipologia di analisi ma direi di andare subito a vedere che cosa sta succedendo su Ethereum Ethereum il minimo io l'avevo previsto intorno al 12 come puoi vedere l'indicatore in realtà ha cambiato è andato ad agganciarsi al minimo effettuato il 10 di marzo perché lo ha definito un minimo valido quindi questo è l'esempio che dico sempre l'indicatore va nel passato va a estrapolare la durata media di tutti i cicli presenti nel pannello in questo caso considero solo quelli evidenziati di giallo che sono quelli che formano questa sinusoide ciclica ne calcano una media e la proiettano nel futuro la media attuale di un ciclo in questo caso a 20 giorni è di 17 giorni era in realtà di 19 perché se era qua era di 19 che cosa è cambiato? il mercato è rimasto rialzista non è che sia diventato ribassista all'improvviso ovviamente cambiando però la durata media quello che andrà a variare saranno indubbiamente e sicuramente le date per i picchi infatti come puoi vedere la deve mettere il 20 giorni scusami come puoi vedere in maniera decisamente importante ovviamente questo massimo attualmente non c'è più normale che sia così in realtà è un massimo del 5-10 giorni lo vediamo qua perché in realtà è cambiato di poco un 5-10 giorni io tendenzialmente a me non piaccio usare troppo i 5-10 giorni però mettiamoli lo stesso e andiamo ad aggiornare a questo punto il prossimo minimo che è quello che andiamo a posizionare qua del ciclo a 10 giorni il 20 giorni ci va a dare il minimo più o meno allineato con quello del 25 di marzo faccio che fare una via di mezzo e così abbiamo in un unico colpo sia un 10 giorni con 20 giorni cosa ci dobbiamo aspettare? spinta rialzista grazie alla Fed che ha salvato le banche americane in fallimento e anche di conseguenza Circle e di conseguenza anziché crollare tutto c'è stato un decollo disumano delle criptovalute e dei tecnologici vedi anche il Nasdaq che è partito al rialzo con un movimento fuori da ogni logica e siamo arrivati a un bel 31,74% di rialzo su Ethereum e il mercato sta per andare a ritestare l'altra linea del ciclo 80 giorni che non so quanto potrà tenere perché? perché è già stata in realtà rotta due volte già qua quindi qua si sarebbe già dovuto annullare però avendola appena appena sfiorata e in tutta onestà la mantengo ancora valida il prossimo picco importante è quello che vediamo qua quello della data del 18 di marzo il picco numero 6 che è il picco del ciclo a 20 giorni ti ricordo che tutti i minimi più vicini e i massimi più vicini corrispondono sempre al ciclo più piccolo illuminato quindi in questo caso il 20 giorni è previsto per il 18 di marzo sia domani se non sbaglio esatto per il 18 di marzo e quindi andare a posizionarsi in long adesso lo si può fare solo per l'entusiasmo ma se ci basiamo da un punto di vista scusatemi non ho tolto come al solito l'audio se ci basiamo da un punto di vista mannaggia da un punto di vista ovviamente dell'analisi non dobbiamo più andare a cercare delle condizioni rialziste al momento ma dobbiamo fermarci perché il mercato su base statistica dovrebbe ritracciare quantomeno fino più o meno al 26 di marzo non ho trendline da poter ritracciare neanche uno a 10 giorni no tra l'altro i 10 giorni è anche sballato perché non c'era variazza mannaggia ho fatto casino mi sa che dovrei fare tutto ok 10 giorni vediamo se sono rimaste giuste le altre dovrebbero essere rimaste corrette un po' eh sì ok sono rimaste giuste non vedevo questa è rimasta là perfetto dicevo il 10 giorni che lo possiamo andare a posizionare in questa maniera vede un picco più o meno anche qui allineato intorno al 19 ah mannaggia non si legge il numero ok intorno al 19 in realtà è previsto intorno al 21 21 di marzo mancano 4 giorni in realtà si potrebbe forse anche se si è rialzisti mantenere l'operazione però assolutamente andrebbe chiusa a contatto con la trendline perché se andiamo a vedere bene qua ok perfetto siamo su un bel livello di resistenza quello di 1778 con il livello di resistenza ed era molto importante dicevo non ho trendline del ciclo 10 giorni perché il minimo di 10 giorni io non considero ancora valido questo aspetto che chiaramente me lo vada a validare l'indicatore grazie all'algoritmo proprietario che mi va a fare tutti i calcoli nel passato e poi tra l'altro come vi dicevo un ciclo che non uso neanche troppo non mi piace neanche troppo andare a utilizzare il 20 giorni è sicuramente un ciclo molto più affidabile da lavorare perché me l'ho parcheggiato qua sotto l'ho messo qui ah perché era sotto il prezzo mannaggia ok 4 sto facendo un po' di casino con i numeri vabbè fa niente e qui abbiamo il piccolo 20 giorni quindi rimango ancora dell'idea di poter vedere uno storno su Ethereum per comunque poter prendere un'operazione al rialzo bisognerà attendere che il prezzo raggiunga il minimo minimo non intendo di prezzo intendo di tempo quindi possiamo anche vedere una cosa del genere sarebbe sempre un'analisi corretta a un punto di vista ciclico ok quindi vedere il mercato fare anche un movimento più di rialzo e poi andare a ritracciare anche solo qua e poi ripartire in realtà se guardiamo la sommatoria dei cicli è abbastanza evidente essere comunque ribassista perché se ci mettiamo così è abbastanza chiaro ok lo vediamo questa è una componente del ciclo a 40 giorni ok che qui avrà tutta la sua fase di ribasso andiamo a vedere anche l'80 giorni che è già nella sua fase di ribasso quindi la spinta ribassista è ancora importante e ancora vai questo rialzo è stato un rialzo drogato non un rialzo tecnico ma un rialzo come al solito perché la Fed ha ricominciato a stampare come se non ci fossero domani non so se avete visto in giro i vari grafici di Bloomberg sostanzialmente in due giorni ha già ricoperto metà della riduzione di bilancio che ha iniziato mi pare se non ricordo verso la fine dello scorso anno quindi in soli due giorni questo ovviamente ha portato gli investitori a investire di nuovo su tutto ciò che è rischioso come le criptovalute c'è stato rialzo quindi direi che con questo ci possiamo salutare per fare il riassunto long no siamo un po' troppo tirati siamo vicino al livello di resistenza mancano pochi giorni a quello che potrebbe essere il picco del ciclo posizionarsi al ribasso non è ancora l'ora perché un ribasso al momento lo si vedrà solo sotto a 1661 o dovesse rompere il livello di 1778 sempre solo un ribasso lo si vedrà sotto appunto al livello come poi se la prima volta che vedi una mia analisi non mi sentirai mai dire se rompe 1778 andiamo long se rompe 1661 andiamo short no quello lo lascio a chi non è in grado di prevedere i mercati con l'analisi C che credo che nel mio strumento ci si può cioè si possono prevedere i movimenti del mercato come puoi vedere dall'indicatore va proprio a centrare e perfettamente quelle che sono i cicli di mercato e ovviamente c'è un rispetto da parte del mercato della componente ciclica se andiamo un po' più sul lungo vediamo un po' se riesco a mettere un po' più storico ma non credo andiamo un po' volta il 2.0 ho impostato i 500 perché non so quanto ne ho nel passato a disposizione e no purtroppo non c'è abbastanza storico nel passato e quindi mi si ferma qua e però è abbastanza evidente che qui abbiamo tutto questo componente ribassista e il rialzo più importante ce lo avremo poi qua intorno ad aprile perché quando vedi questi movimenti così impulsivi così forti significa che voglio andare a mettere il 20 giorni ok significa che ci sono più cicli in sincronia cosa vuol dire vuol dire che il mercato quando è così che non si capisce niente come puoi vedere qua ha i cicli che sono sballati nel senso che non sono sincronizzati ossia anziché essere per intenderci fatti così ok sono fatti ok questi così però poi qua ce n'è qualcuno in mezzo ce n'è qualcun altro in mezzo e questo prova che praticamente una spinta quasi uguale sia da sopra che da sotto il mercato rimane in orizzontale quando invece abbiamo una componente così vuol dire che abbiamo oppure anche a ribasso ovviamente che abbiamo i cicli che sono in sincronia quindi vuol dire che se il mercato se i cicli sono fatti così avremo qua che ci sarà in questo caso una partenza rialzo tanti cicli che qua chiuderanno il loro minimo e poi ovviamente partiranno con il massimo questo porta ad avere una spinta la vediamo che è molto più alta rispetto invece c'è una sommatoria dei cicli come poteva essere qua che causa una lateralità quindi vale la pena aspettare per un long eventualmente fatto come si deve più o meno intorno alla data del 13 di aprile genereremo grosso modo l'intorno per poter andare a cercare delle condizioni rialziste andiamo a levare questo che ormai non serve più non me lo fa cancellare lo cancelleremo un'altra volta con questo è tutto veramente ti auguro una buona serata e ci aggiorniamo al prossimo analisi sull'e-telium ciao 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 ciao